Buongiorno, buon sabato a tutte e a tutti, siamo di nuovo a San Bernardino, questo splendido quartiere di San Severo per raccogliere le firme per lo spostamento dei tralicci dell'alta tensione e per il non avvio del nuovo compostaggio che il sindaco Miglio ha deciso di regalare ai cittadini di San Severo. Anteponiamo la salute dei cittadini davanti agli interessi di parte, purtroppo qui si muore, la gente qui si ammala e si muore, purtroppo di cancro. Miglio dovrebbe sapere, lui che è il titolare della sanità a San Severo, queste cose dovrebbe saperle, lui dovrebbe essere il primo tutore della sanità per i suoi cittadini. Noi adesso glielo faremo vedere con le firme, gliele consegneremo dopo la raccolta, ma non a lui, chiederemo l'intervento del prefetto, perché insomma con lui ormai siamo stanchi di parlare perché puntualmente fa solo gli interessi di bottega. Noi cominciamo la raccolta di firme, simbolicamente la prima sarà la mia. Grazie.